Qualcuno mi diceva, ma facevi la Formula 1 e sei qua a farla a 500 Abarth, ma io mi diverto allo stesso livello. Volevo iniziare questa intervista parlando un po' di quella che è la tua storia, per poi passare ovviamente al motorsport e alla Formula 1, perché ho qualche domandina da farti. Non tutti lo sanno, ma io sono andato a studiarmi un po' tutta quella che è la tua carriera, il tuo passato, e nasci come sciatore professionista. Raccontaci un attimo. Sì, se abbiamo 4-5 ore posso raccontare tutto. Anche riassumendo, perché è interessante. Riassumendo, trasmessa dai miei genitori, io ho sempre avuto questa passione per lo sci, fin da piccolo. Giocavo a tennis abbastanza bene, ma poi ho lasciato il tennis. Mentre sciavo a 14 anni, ho fatto un torneo di calcio. Noi avevamo la casa alla Prica e un amico di famiglia era Sergio Brighenti, che era un osservatore dell'Inter. Andò da mio padre e disse portalo a fare il provino all'Inter. Mio padre me lo disse e io risposi no, voglio sciare. Quindi avevo ben chiaro qual era la mia passione in quel momento e questo mi ha aiutato molto anche nel passare un'adolescenza abbastanza tranquilla relativamente. Perché poi quando vai in giro per il mondo ai 17-18 anni comunque ti diverti. Marachelle su Marachelle. Sì, sì, quello è meglio non raccontarle cosa abbiamo combinato. Però bello perché comunque vivevi per obiettivi e poi non sono arrivato a livelli eccelsi, non mi sono mai avvicinato alla possibilità di correre in Coppa del Mondo. Ho fatto un paio di gare di Coppa Europa, però è stata una bella qualcosa che poi mi ha aiutato molto nel percorso anche successivo. Il fatto di porsi degli obiettivi come atleta sai che per raggiungere l'obiettivo devi fare determinate cose. Quindi quando sono entrato per caso anche nel mondo del giornalismo sapevo che per raggiungere determinati obiettivi dovevo fare determinati passi. È una sorta di scuola poi, una scuola per la vita. Ma io credo, sai, quando fai l'atleta, comunque io sono uscito di casa, ero in seconda liceo, quindi ho 15 anni per forza di cose perché da Milano a un certo punto devi decidere di trasferirti se fai quello sport lì vicino alla neve. Quindi ero fuori di casa a 15 anni, quindi cresci in un modo diverso, cresci con una testa diversa. Lo vedevo anche, pur restando assolutamente i miei migliori amici, quando tornavo, magari avevo dei weekend liberi per stare con loro, vedevo che avevamo una prospettiva e visione della vita molto diversa rispetto all'età che avevamo in quel momento. Chiaro. Ogni tanto vuoi sempre sciare quando puoi? Io sono anche maestro e allenatore di sci e fino prima del covid mi piaceva anche insegnare ai bambini, mi capitava, io vado in una località nella Bergamasca che si chiama Montepora, Castellana Presolana. La più vicina a Milano? Sì, una delle più vicine a Milano, comodità, ma anche un bel parco giochi per i bambini, quando hai figli sei in un posto dove tutti si conoscono. Ho visto Luca che scia, ho visto Giacomo e quindi è tutto sotto controllo e mi capitava di avere, magari mi chiamavano e mi dicevano guarda che non c'è oggi l'allenatore, puoi dare una mano? Io andavo volentieri perché mi piaceva molto. Dopo il covid invece mi è preso più di divertirmi, nel senso che io accompagno i miei figli che fanno allenamento alle otto del mattino, scio fino alle dieci, mi diverto e poi bombardino. In baita, a scaldarsi. La passione per il motorsport ce l'avevi già a quei tempi, insomma quando sciavi per le fiamme d'Aoro per esempio, oppure è arrivata per esigenze professionali? Un po' un po', nel senso che gli sciatori, se tu guardi, ci sono degli sciatori che hanno finito la carriera e poi sono passati nel motorsport, c'è Luca Alfand che è stato uno dei più grandi discesisti della storia, che ha vinto la Dakar, c'è Cristian Ghedina che si è impegnato poi in GT e adesso corre con gli offshore, perché comunque c'è dentro l'aspetto dell'adrenalina, della velocità. A me, e poi tra di noi, noi facevamo, a parte stare in macchina delle ore, non si può dire che si guardava chi arrivava prima da una località all'altra, questo non si può dire. E con la macchina intera. E poi c'era soprattutto la voglia di competere sempre tra di noi e quindi ti spostavi in Austria, vedevi una scritta go kart, ci trovavamo lì e facevamo le nostre gare tra di noi, spesso venivamo espulsi perché quando c'è la competizione tra sciatori, Io ricordo una volta una gara, forse eravamo a Jesolo, ci fermiamo, facevamo una gara di go kart, sportellate, poi un ingresso alla Magnussen tipo Monaco e la risposta è stata, è la gara è gara. Questa passione per il motorsport l'avevamo già di gruppo perché poi ci guardavamo i Gran Premi insieme, comunque parlavamo tanto di motori, c'è un forte connubio tra il mondo dello sci e il mondo dei motori. Anche per dire in quegli anni agli atleti della nazionale veniva data, io ero ancora troppo piccolo, veniva data l'M3 BMW e ricordo che si andava a organizzare i parcheggi con delle balli di fieno per fare un percorso e poi a cronometro vedere chi era il più veloce. Quindi questo c'era dentro, poi sicuramente mio papà faceva a livello amatoriale qualche gara di motocross, avevo in montagna da piccolo il figlio degli amici dei miei genitori, molto più grandi di me, correva nel mondiale motocross, i miei mi avevano regalato una motoretta quando avevo 10-11 anni, ai tempi si poteva girare in montagna, quindi io andavo con lui e lui mi ha detto un giorno, una delle prime volte avevo questo Omar 50 piccolino, gli andavo dietro, andiamo in discesa e lui mi dice cosa fai, freni? E io mi ricordo la frase sua, il bello è quando sei in discesa a spalancare tutto, spalanchiamo, 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 quindi poi ho scoperto di recente che mio nonno è stato il primo ad aprire un'agenzia di pratiche automobilistiche, io mi ricordo solo che andavo nel suo ufficio a piccolo e timbravo tutto quello che mi capitava per mano e quindi un po' tutto, un po' l'essere stato anche a dei gran premi o comunque accompagnato da mio papà, una passione comune di guardare i gran premi, poi la cosa bella è che d'estate avevo anche il mio gruppo di amici, noi stavamo spesso in montagna all'aprica e ci trovavamo tutti la domenica per guardarci insieme il gran premio, io ero tifoso di piquet, eravamo prevalentemente tifosi di piquet e quindi era bello perché poi parlavamo del gran premio e quindi c'era una condivisione, quindi quando mi è stato proposto il progetto Formula 1 ho accettato subito senza batter ciglia. Scusami, correggimi se sbaglio, penso che sono circa 20 anni che lavori a Formula 1 perché prima ovviamente di essere telecronista hai iniziato come radiocronista per RTL 125. Io ho iniziato dal 1998 fino al 2003 con RTL 125, poi ho fatto 2007-2009 per la Formula 1 la prima tranche di diritti che abbiamo avuto per Sky e poi dal 2013 a oggi per Sky. Ci sono stati quei passaggi a vuoto che però non sono stati a vuoto perché nel 2010, era il primo anno che avevamo i diritti, mi era stata prospettata un po' la carriera nel mondo del calcio. Mi dicevano adesso cambiamo, diventi volto del calcio. Io ho detto ok, pensiamoci un attimo, sono tornato, allora il direttore era Fabio Guadagnini e io ho detto Fabio ma per i motori, perché ero convinto che prima o poi la Formula 1 sarebbe tornata su Sky, per i motori non abbiamo un piccolo budget e mi rispose che avevamo 50.000 euro di budget. Io con 50.000 euro di budget, praticamente da solo, aiutato da colleghi della produzione, abbiamo iniziato un po' a sondare il mercato, di cosa c'era a disposizione nello scenario del motorsport e con 50.000 euro siamo riusciti a prendere l'IndyCar perché alla fine trattativa nessuno la trasmetteva in Italia, loro serviva, quindi costi tecnici di trasmissione, il DTM, il Ferrari Challenge, l'Abar 500 e quindi abbiamo fatto la Nascara, abbiamo fatto un pacchetto molto interessante. Siamo ripartiti da lì, abbiamo continuato da lì almeno, io poi il periodo dell'IndyCar lo ricordo con grande affetto perché ci siamo trovati, mi sono trovato spesso a commentare gare di notte, alle 3, alle 4 di notte e mi ha colpito quando ho detto allora ci vediamo alle 3 stanotte per la gara e mi dicono no ma guarda che la mandiamo con audio inglese, io faccio in che senso con audio inglese, no con le tante partite di NBA facciamo così no quando le partite sono alle 4 del mattino, ho detto no però non mi sembra giusto, se c'è anche un solo cristiano che si alza per guardare questa gara mi sembra giusto comunque accompagnarlo e abbiamo creato una community di persone, lì nasce i pazzi della notte, la hashtag pazzi della notte, una community di persone molto forte, tanto forte che i primi meme o le prime cose social che ai tempi erano ancora abbastanza ridotte però erano per dire guarda il camioncino spazzapista, quando ripulivano le piste lì usavano questi camioncini se piovevano per togliere l'acqua e quant'altro e guarda questo camioncino spazzapista, poi mi trovavo il giorno dopo uno che ai tempi usava più facebook che fotografava il camioncino spazzapista uguale che c'è per strada e lo pubblicava e si creava così, si è creato un bellissimo gruppo ma poi io ti dico non mi sono pentito di dire non sono diventato, non lo so magari andavo a fare lo studio non ci sono rimpianti mi sono anche molto divertito, andavo a Imola per la 500 Abarth o a Misano per commentare la 500 Abarth mi sono divertito un sacco perché poi quando metti la cuffia e ti metti davanti a un microfono almeno io sono così che sia una gara di Formula 1 o che sia una gara di trattori o gurlandi sono convinto che quelli che guidano il trattore in quel momento stanno dando l'anima per vincere quindi è un livello diverso ma lo spirito è lo stesso quindi se tu affronti il racconto, qualcuno mi diceva ma facevi la Formula 1 e sei qua a farla a 500 Abarth ma io mi diverto allo stesso livello anche perché poi respiri comunque un'aria di paddock quella roba lì la situazione è molto simile grazie